Oio, ciao a tutti ragazzi, io sono Vergence di Cognito Night e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Dalla A alla Z Ripartiamo oggi da... dal Colamica Database? No, seriamente, ripartiamo da Ricka Per quale motivazione? Perché l'ultimo mazzo dello scorso episodio era Resonator, appunto Quindi, questi sono i mazzi che recensiremo oggi e partiamo da Ricka Ricka che è un mazzo interessante Ricka, me lo ricordo molto bene, per quale motivazione? Perché uscì nello stesso set di Adamantia Io al posto di Adamantia dovevo farmi questo mazzo, per quale motivazione? Perché, boh, cioè in realtà Era il mazzo che mi piaceva di più inizialmente, poi scoprì Adamantia Perché non ho mai parlato di Adamantia nel giornale, né nella serie dei mazzi, insomma Metormim, quindi a tutti gli effetti non ho mai letto tanto prima dell'uscita le carte Adamantia Né viste, a parte Dragite Poi una volta che le ho viste, le ho provato, ho detto questo è il mio mazzo Quindi ho questa piccola cosa per quanto riguarda Ricka Mazzo simpatico, nulla di esagerato, onestamente mi ha fatto cacare Fino al primo momento nel quale ho verificato effettivamente come si giocasse Non mi piace per niente Mazzo di queste tizie che sono collegate al Al tempo Non quanto pittore meteorologico Però sarebbero collegate al tempo Insomma, la neve in generale Più in generale Detto questo, comunque Archetipo che non mi piace per niente Non apprezzo, cioè non apprezzo nemmeno per lo suo stile di gioco Banalmente Dal punto di vista degli artwork Teardrop è molto bella Elebor è carina Per il resto Nulla di esagerato Forse Glamour è simpatica come carta Però non mi fa impazzire onestamente Gli vado a dare un 4 Dal punto di vista dello stile di gioco Mi fa cagare completamente Gli vado a dare un 2 Nel punto di vista della competitività L'ha vista di recente Prima l'uscita di Teard Sarebbe stato un 3 2 Perché non aveva visto la competitività Anzi, probabilmente si sarebbe meritato per un 1 Adesso, secondo me, si può meritare un 4 Poi comunque ci sono stati supporti recenti Lei è il supporto recente migliore E' veramente tanto migliorato Il mazzo ha risolto un sacco di problemi Questa rilascio di supporti In realtà è un supporto Però vabbè Quindi ci può stare Mazzo simpatico per giocare Insomma Un 4 sono merita Senza ombre di dubbio Oltre questo Abbiamo Ritual Beast Allora Ritual Beast è un mazzo sul quale Mi sono concentrato Precisamente Perché Daniele Mio amico Lo aveva E volevo fare a reclis di questo cazzo Di Ritual Beast Finalmente una volta che l'ha completato Il punto è che lui Si è messo soltanto a vedere delle liste Non giocando attivamente ormai Ha detto Vabbè Non so come montare una lista vera e buona Di Ritual Beast Quindi mi sono messo io Dato che sono andato un giorno a casa sua Ho detto Dobbiamo fasta a reclis Mi sono messo a capire come funziona Ho chiesto di prestarmelo Per capire effettivamente come funzionasse E' una lista buona da fare L'ho giocato ad un local L'ho riportato a casa sua E abbiamo registrato la reclis Con il mazzo pronto Preparato Per essere decente Mazzo Veramente molto divertente Devo dire Una bella combo Si ferma lì Cioè E' carina la combo iniziale Ha bisogno di un po' di setup Ma oltre quello Non è nulla di esagerato Magari all'epoca di quando uscì Poteva essere interessante Infatti Fu anche limitato Ulti canna Molti dicono Per marketing Io onestamente All'epoca non c'ero Quindi Non lo so Il fatto sta che comunque E' fattuale Sto fatto Ha avuto una carta in banlist E quindi E quindi Li vado a dare Dal punto di vista degli artwork Molto belli Ovviamente Winda è bellissima Ma Principalmente Ulti canna Che è molto bello Anche ulti apelio Non è brutto Ulti gaia pelio È molto bello Gli vado a dare Un 6 Ci sta Carte simpatiche Dal punto di vista Lo stile di gioco Mi è piaciuto molto giocarlo Mi diverte Gli vado a dare Un 7 Dal punto di vista Della competitività Ragazzi Boh Cioè Ha fatto delle top in passato Poi è crollato Va bene Gli vado a dare Un Un 4 Perché Aspettiamo Vediamo i supporti Se usciranno E poi Lo rivalutiamo Però adesso ragazzi Il mazzo è veramente morto Cioè Li vado a dare Un 6 Dai 4 Manteniamo 4 Perché comunque Ha fatto delle top E ha avuto comunque Per un sacco di tempo Una carta in banlist Quindi Ci sta Terzo mazzo del giorno Roid Non ho già parlato di Roid Assurdo Vabbè È Roid Mazzo di Cyrus Truesdale Sono orribili Secondo me Sono veramente brutti Uno peggio dell'altro Quante pagine ci sono Non mi piace per niente È un mazzo Oddio santo Speedroid Non c'entra nulla questo E I Roid Sono Un mazzo fusione Interessante Cioè Per l'epoca Interessante Perché era interessante Vederlo Sono questi Mezzi di locomozione Con occhi Sono bruttissimi Sono veramente Uno peggio dell'altro Adesso mi sta mostrando Speedroid a caso Sono veramente Uno peggio dell'altro Non mi piacciono proprio Li trovo Veramente brutti Vabbè Per quanto riguarda Roid Mazzo di Cyrus Truesdale Di Speedroid Ne parleremo ovviamente Più in avanti Gli vado a dare Un Due Dal punto di vista Degli artwork Ragazzi Sono veramente brutti Ha uno stile di gioco vecchio Mettiamola così Metodo di fare Fusione di sto mazzo Tutto Brutto Lento Ok che c'è Barbaroid Che è una cosa Devastante Però Cioè Manco Manco all'epoca La gente lo giocava Se lo giocavi Era perché Eri un bimbo Che non poteva Permettersi nulla Quindi Gli vado a dare Un Due Anche dal punto di vista Dei Dello stile di gioco Non mi piace proprio Dal punto di vista Della competitività Due Perché Boh Si ha visto top Li ha visto nell'anteguerra E poi non è Non è più Tornato Nulla di Minimamente viabile Manco nei formati alternativi Dove potrebbe essere viabile Sto mazzo Lo è Quindi Speed duel Duel links Zero Quindi va bene Ottimo Roid Veramente ottimo Rocket Vabbè Rocket Letteralmente L'engine Principale Di dragon link E Una cosa Veramente Imbarazzante Quanto sia forte Sto mazzo Cioè E' stato rilasciato Con Degli ottimi Pensieri Per quanto riguarda Il suo rilascio Structure deck Ok Sembrava interessante Come mazzo Poi è nato Dragon link E da lì Disastro Totale Il mazzo A turno Diventava tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 2 A volte raramente Rogue Però tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 2 Ha causato il ban Di un sacco di roba Thunder dragon Che giocava roba Drago a caso Pur di fare spam Cioè Una roba imbarazzante E vabbè Ovviamente Ai rocket Si vanno anche A collegare I borrel Che sono Un archetipo Pensato Di supporto Per rocket Però Comunque Diciamo Che È separato Come archetipo Quindi l'abbiamo Già recensito In passato Fatto sta Che in ogni caso Rocket È veramente Molto bello Dal punto di vista Degli artwork Anche se sono Tutti più o meno Robotoni Gli vado a dare Un set Mi piacciono Veramente tanto Stile di gioco Vabbè Adoro dragon link Nonostante lo abbia venduto Quindi Gli vado a dare Un set Dal punto di vista La competitività Ragazzi Rocket Come supporto Per dragon link È una cosa devastante Come competitività Gli vado a dare set Anche Anche a loro Perché Anche qui Gli vado a dare set Perché comunque Tracer Synchron Recharger Inizialmente si giocava Anche silver rocket Si è giocato Anche Explode rocket Per andare a fare Ftk Ovviamente si gioca Il drago Che ti aggiunge I rocket Absoluter Cioè È veramente Molto 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 importante Come mazzo Per quanto riguarda Dragon Nel 2022 Quindi Se lo merita Assolutamente Ultimo mazzo Rosa Allora Rose dragon In realtà Sarebbe Rose Perché Un po' Tutte le carte Rosa Sono Supporto A Drago Rosa Infatti Non c'è nessun altro Rose Quindi andiamo a parlare Di rosa Meglio conosciuto come Rosa nera Allora Archetipo Asincro Interessante Ovviamente Rosa nera Moonlight Vabbè Si conoscono Sono veramente Famosi Come mostri Principalmente Rosa nera Mostro Dell'anime Di 5dies Veramente Uno dei più amati Di sempre Uno dei mostri Drago più amati di sempre Stanno che non sia pianta Ma va bene Per quanto riguarda I mostri di main deck E Crossroads Insomma I mostri di extra Direttamente Che sono Rosa Sono interessanti Però Non sono nulla di esagerato Si basano Ovviamente Sempre All'incirca Sulla meccanica Syncro E Vogliono andare a fare Dello spam Tra virgolette E' interessante Assolutamente Però Non è nulla di esagerato Insomma E' un for fun Mettiamola così Un archetipo Che tu ti costruisci Per ricordarti Di Akiza E di 5dies Insomma Mettiamola così Comunque Al momento Verete C'è una carta limitata Del mazzo In Bandlist Perché Il mazzo E' stato utilizzato In Based Che era un mistone Di roba A caso Quindi Ci sta Allora Archetipo Dal punto di vista Degli artwork E' Sono combattuto Perché rosa nera Mi piace Altri invece Tipo rosa rossa Non mi piacciono proprio Perché non mi danno lì niente Lì vado a dare Una via di mezzo Quindi un 5 Dal punto di vista Dello stile di gioco Pure lì Ok Syncro Solo perché è syncro Lo porto a 5 Dal punto di vista Della competitività Si è visto in Based Basta A volte Forse Dragorosa Carminio Potremmo vederlo Come giocato In qualche mazzo Swordsoul Mi viene in mente Per giocare Dragorosa Carminio Perché è il mazzo Che più facilmente Riesce a fare Dragorosa Carminio Rally Rose Però c'è stato Based Quindi gli vado a dare Un 4 Perché come engine E' veramente interessante Ovviamente al momento C'ha tutta la carta limitata Che è Una cosa da non sottovalutare Signori Questo era L'archetipo L'ultimo archetipo Il quinto archetipo Di oggi Quindi niente Scrivetevi qua sotto Che cosa ne pensate Per quanto riguarda Questi 5 archetipi Di quali ho parlato oggi Noi ci vediamo Come al solito domani Alle 15 Con un nuovo video Ciao ragazzi Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo